Vai giù? Vai giù? Va di lei? No, ti aspetta che... Va di lei? Vai giù, vieni su, scendi. Frenate bene, quando andate giù che la puliamo. La parte più forte è la pelle. Scusi Sì, oddio! bella! bella! fa che devi pensare al tiro! bella! a me piace! non si fai dentro niente e ti diverso! bella, bella! è importante divertire! adesso facciamo il destraire, cos'è lui da faccio dentro! Ma poi ti diverti perché fai le deviazioni, saltini, fai...